La carrellata di autori e di proposte, qui ci troviamo di fronte a un autore che è importante nella storia della fotografia italiana per essere stato uno dei protagonisti della fotografia degli anni 70, momento in cui la fotografia iniziava ad affacciarsi in Italia al mondo dell'arte contemporanea. Infatti si dice essere stata sdoganata da Vaccarri durante la biennale del 72 o 70, non ricordo esattamente, con un bellissimo lavoro. Diciamo che Altamira fa parte di quel piccolo drappello di autori di grande qualità che da allora hanno iniziato a utilizzare la macchina fotografica come strumento espressivo di arte contemporanea. Questo è uno stand particolare in quanto tratta della fotografia anonima e quindi è quella fotografia a cui si dà una valenza e importanza attraverso la capacità propria di poter attribuire a questa immagine una valenza particolare, magari diversa da quella che lo stesso autore ha avuto al momento dello scatto, ma è proprio questa scelta, perché credo che ognuno nella propria vita che ha fatto fotografia abbia fatto uno scatto straordinario e magari questo scatto viene trovato in un mercatino per 5 euro e quindi c'è la possibilità di ritrovare delle immagini particolari, con appunto particolari significati che sono soprattutto attribuiti da chi vede con occhio diverso, con la stessa immagine rispetto a quello che ha fatto lo scatto. Fondazione Rava. Buongiorno, siamo qua per la mostra in realtà di Albertina Durso che è venuta con noi ad Haiti e è venuta sia prima del terremoto che dopo e adesso qua abbiamo le foto dei bambini che ha fotografato vittime, tra virgolette, del terremoto in quanto amputati, però questo supporta molto il nostro progetto delle protesi che abbiamo lì e quindi è un momento bello per tutti di vedere com'è la realtà di Haiti ora e di tutto quello che si può fare ancora. Allora, siamo con Franco Fontana. Sono felice di esserci. No, dicevo che l'iniziativa è straordinaria e va di là anche del dato di fatto, perché trovo e penso anche che il prossimo anno ci sarà un'adesione quasi doppia e il rapporto con Paris Photo, perché io ho visitato sempre quella là, è che Paris Photo, tanto di cappello per l'amore di Dio, ma qui c'è una crescita culturale perché a parte il mercato della fotografia perché sono qui anche per vendere, c'è questa parentesi museale, qui uno entra e comandà in un museo, ci sono gli autori, c'è questa cosa che secondo me è in crescita rispetto a Paris Photo. Qui siamo in uno stand invece dove ci sono di una galleria svizzera che presenta quattro autori, quattro classici, due particolarmente importanti nella storia della fotografia italiana che sono Mario Giacomelli, quello di cui parlavo prima, il poeta e Luigi Ghirri, come diciamo prima il caposcuola. A questi si aggiunge un grande maestro della storia della fotografia americana, Liffid Lander e qui Horvath che è stato anche uno dei più famosi fotografi di moda. Sono delle immagini fatte una ventina di anni fa a bordo di elicottero, la cosa che mi ha emozionato è questa restituzione usando le nuove tecnologie, per cui direi che le informazioni che erano sulle slide 6x7, perché sono fatte con la Pentax, su diapositiva Ektachrom, c'erano. La tecnologia di 23 anni fa non era come quella di oggi, per cui oggi diciamo che abbiamo questa morbosità in più, c'è questo dettaglio, c'è questa modernità, anche se sono delle opere che hanno un trascorso. Però il taglio dell'architetto si vede? Sì, è un po' quello che mi ha perseguitato e che ancora ironicamente mi perseguita. La composizione delle linee, l'uomo è comunque inquadrato in questi volumi abbastanza precisi, anche se la poesia poi, insomma, voglio dire... Al sopravvento, sicuramente. Al sopravvento. Passiamo dagli autori, come diciamo prima, di grande, molto noti al pubblico sicuramente, perché appunto dei classici, degli autori comunque altrettanto interessanti, sul tuo filo della qualità, con una storia dietro le spalle ovviamente diversa, che però hanno delle caratteristiche di grande interesse. Passiamo sul bianco e nero, quindi diciamo nella varietà delle proposte sono le più disparate. Il bianco e nero, sotto certi profili, è quello che più facilmente si avvicina al mondo della distanza, dalla realtà, perché di per sé stesso il fatto che sia il bianco e nero essenzione nella realtà, il colore, essendo una fotografia il bianco e nero, chiaramente, il fatto già della scelta, diciamo, cromatica, indica un certo tipo di intenzione. Il rappresentante dell'arte contemporanea, un colosso Arnulf Reiner, che interviene, facendo diventare ovviamente opere uniche, le fotografie, su cui lui appunto opera il suo intervento. Iner Sir Petit è una ragazza di lituana, di 28 anni, che vive a Londra, fa un racconto sulla memoria del suo paese. In Italia non sappiamo, l'occupazione sovietica è stata molto dura nel suo paese e lei racconta tutto quello che hanno dovuto soffrire i cittadini della Lituania. La foresta è l'unica via di fuga per raggiungere la libertà, ma soprattutto oggetti che il padre ha raccontato aver visto durante un interrogatorio che aveva subito dalla Polizia Secreta. Per trovare in questo stand Franco Fontana, non possiamo però non citare in quale stand ci troviamo, che è quello di Andres Serrano, uno dei più noti e importanti autori mondiali, che tra l'altro è stato invitato da noi come organizzazione da New York per tenere questa sera un Alexio Magistralis sulla sua poetica e sul suo modo di fare fotografia. Allora, siamo in presenza dei due stand della Fondazione Forma di Milano, che voi ben conoscete, e ci facciamo raccontare un po' qual è il percorso di questi due artisti. Buongiorno, abbiamo pensato come appunto Forma Galleria di portare due artisti che hanno una connotazione e una storia completamente diversa. Sono Massimo Siragusa, che è appunto l'autore di queste opere a colori, e Francesco Radino, che è invece l'autore delle opere qui accanto. Massimo Siragusa è un autore estremamente sensibile, ovviamente all'uso del colore, come si può notare, e le sue opere hanno una connotazione di estrema grazia e leggerezza, pur andando a indagare dei temi a lui molto cari, come per esempio il paesaggio, cercando però sempre di cogliere un punto di vista piuttosto insolito. In questo caso abbiamo portato delle opere di una serie che si chiama I luoghi dell'infinito, e sono per esempio queste tre opere che sono state appunto scattate nella Sicilia, che è anche peraltro la terra di origine di Massimo, e sono foto un po' spiazzanti perché sono queste architetture che ricordano un po' le piazze di De Chirico, sono questi paesi del centro della Sicilia che sono stati oggetto di un tentativo di ripopolamento durante i tempi del fascismo con la costruzione di questi paesi che ora però si trovano un po' così deserto e spaesati. Cristian Tagliavini con un'esperienza fotografica straordinaria che si rifà anche alla pittura rinascimentale? Sì, diciamo che questo è il mio ultimo lavoro, è un lavoro che si ispira a due autori, uno è il bronzino l'altro è i modigliani per i colli allungati, poi questo è un lavoro precedente, che è Dame di cartone, è un lavoro con, questo è un primo trittico di nove fotografie che riprende il cubismo, c'è il XVI secolo e per finire con il fantastico e favoloso mondo degli anni 50. Questo invece è uno dei miei primissimi lavori che è Cromofobia, una storia inventata americana su il personaggio principale che è Mrs. Maggie, che è la paura dei colori. Siamo da Minnini di Brescia, una presenza storica possiamo definire della fotografia, la Woodman che è mancata a 22 anni e di cui abbiamo illustrato ampiamente la mostra che si era tenuta a Milano a Palazzo della Ragione. È la prima edizione di una lunga serie, speriamo, e l'ho fatta con tre stand, quindi l'ho presa di petto, se così si può dire. Tre stand anche di peso in fondo, perché Francesca Woodman è un mito della fotografia, forse anche dovuto ai suoi avvenimenti personali. E poi comunque con una grossa presenza in mostra a Milano. E poi ha avuto questa grande mostra a Milano recentemente, poi San Francisco Moma, adesso a Roma esce un libro, insomma non mancano le occasioni, però volevo puntualizzare questo rapporto che è nato, devo ricordarlo, a Modena, perché Modena è stata la prima apparizione italiana di Francesca Woodman 13 o 14 anni fa nel corso di Modena Fotografia. Arrivato da lei cosa è successo? Che ho conosciuto in realtà una famiglia di artisti, perché Babbo George è fotografo da sempre e probabilmente è quello che volontariamente o no l'ha spinta a fare la fotografa. La mamma è una pittrice, scultrice nota e insomma diciamo che mi sono innamorato della famiglia Woodman. Sono andato là per la figlia e sono uscito con le opere del Babbo e della mamma. Di Betty ho fatto una mostra e un libro e di George presentiamo nello stand accanto delle fotografie. Di George Woodman presentiamo un insieme di coppie. è una scelta curiosa che abbiamo fatto io e lui nello studio a New York a marzo quando abbiamo deciso di presentarlo a Milano. Yamamoto è un autore giapponese che vive in Giappone e adesso è abbastanza ormai conosciuto nel mercato americano. In Europa ancora non tanto, ma soprattutto in Francia e in Germania stanno prendendo sua fama. In Italia ancora non è molto conosciuto, però abbiamo fatto una mostra importante a Milano e spero che questa mostra, questa fiera possa dare maggior visibilità di fare conoscere quest'autore.